Ciao a tutti, come liberarti dalle emozioni negative? In questa strategia, diciamo, con questa strategia voglio insegnarti come liberarti dalle emozioni negative, una strategia mediata dalla PNL. Prima però di affrontare il tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte. Allora, la PNL, la programmazione neurolinguistica, è una neuroscienza, tanto per dare alcune indicazioni, magari lo sopprei già, che è stata creata negli anni Ottanta dai due co-creatori che sono Richard Bandler, un matematico, e John Grinder, un linguista. La PNL può servire sia come sistema comunicativo verso gli altri, ma anche di comunicazione verso se stessi, fa parte delle neuroscienze e può contribuire, diciamo, a modificare il modo in cui vedi il mondo, a vederlo in modo più positivo, a darti degli strumenti utili per migliorarti, e può essere un valido addestramento del cervello per raggiungere un certo obiettivo. Allora, per liberarsi di emozioni o sentimenti negativi o comunque disturbanti, una tecnica utile è quella della dissociazione. Cosa significa dissociarsi? Dissociarsi significa identificare l'emozione disturbante, l'emozione di cui ti vuoi liberare, ma soprattutto, diciamo, capire, identificare, diciamo, qual è il trigger, qual è l'interruttore che fa scattare questa emozione disturbante. Potrebbe essere, il trigger è qualcosa di sensoriale, potrebbe essere la vista di una persona, potrebbe essere un tuo pensiero, potrebbe essere qualunque cosa. Quindi la cosa fondamentale è viverti, immaginare, diciamo, mettiti in una posizione comoda, tranquilla, rilassata, chiudere gli occhi, e poi immaginare, diciamo, di vedere una, di provare l'emozione e cercare di capire qual è il fattore scatenante che ti scatena questa emozione. Quindi è molto importante questo, perché quando poi vedi l'emozione, quando vedi l'emozione impara a distaccarti da questa emozione, impara attraverso la meditazione, è come se uscissi fuori dal corpo, come se tu fossi qualcosa di completamente diverso, di completamente scollegato da questa emozione. Ecco, quindi questa tecnica è molto utile per sganciarti completamente dalle emozioni. In più, dopo, puoi sempre, a livello mentale, puoi ristrutturare. Ristrutturare significa, diciamo, trovare un qualcosa di positivo, in sostitutivo di questa emozione. Quindi, una volta che ti sei sganciato da questa emozione negativa, a quest'evento, puoi associarlo, diciamo così, attraverso la ristrutturazione, a una emozione positiva, a un qualcosa di positivo. Ad esempio, se la paura di perdere il lavoro ti fa vivere un'emozione negativa di ansia, tu, una volta che hai capito che è la tua paura di perdere il lavoro, che ti genera quest'ansia, per cui ogni volta che vai al lavoro temi di perderlo e provi l'ansia, provi l'emozione negativa, prima cosa ti sganci dall'ansia, ti sganci, la lasci andare via, la allontani, e la sostituisci con la motivazione a fare meglio, la motivazione a trovare un altro posto, la motivazione a lavorare di più, a raggiungere il tuo successo lavorativo. Così ogni volta che andrai a lavorare avrai ristrutturato questa emozione negativa in un'emozione positiva. E questo ti darà, diciamo, una sensazione molto bella e ti permetterà di raggiungere dei risultati veramente ottimi, perché il riuscire a gestire le tue emozioni e trasfermare il negativo in positivo è la cosa principale che ti consente di stare bene, di essere in armonia con te stessa, con te stesso e con tutto ciò che ti cerco. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento e potrai partecipare ad apposite live mirate dove darò delle risposte precise alle tue domande. Potrai farmi delle domande e io ti darò delle risposte. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!